Ciao ragazzi rieccoci, allora questo è il commento di San Pedro e Lazio è stata una Lazio che ha giocato secondo me molto bene, non meritava assolutamente di perdere la partita purtroppo il calcio è una materia crudele, come si dice va in vantaggio dopo una grande azione di Candreva, finta contro finta, cross in mezzo e Giorgiovic la mette dentro di testa poi la Lazio avrà tantissime occasioni con Keita che ci mangerà due gol clamorosi di cui il secondo tiro che ha fatto è stato parato dal portiere della Samp poi conquisterà un calcio di rigore, Lazio conquisterà anche un calcio di rigore che non riuscirà a realizzare la Sampdoria nel primo tempo riuscirà a creare un'occasione dove Fernando pareggerà Candreva ovviamente si farà parare questo rigore da Viviano e nel secondo tempo diciamo che dopo è venuta fuori la Sampdoria con un gran tiro di Coiarella poi alla fine da un colpo di testa del giocatore della Samp che ha colpito la traversa la palla torna giù, c'è una meschia che non si capisce cosa succede alla fine di Akite la mette dentro ed è gol dell'ex e Rizzoli vede che c'è il gol perché dall'orologio non c'è la gol in technology quindi vede che la palla è entrata e poi ci proverà Beia su punizione ma prenderà prenderà ovviamente il portiere che la manderà in calcio d'angolo poi diciamo ragazzi niente e questo è tutto la partita finirà ovviamente 2-1 secondo me però la Lassia meritava di più purtroppo però il calcio è una materia crudele ragazzi questo è tutto e ci rivediamo con Fiorentina Juve ragazzi forse Juve